segui la 7 anche su instagram la 7 ovunque con te però esiste la dissidenza anche rispetto a chi comanda da chi ci comanda da una dissidenza prima di tutto linguistica è una critica e ancora qui significa saper utilizzare le parole e pesarle ma la questione che io penso ci riguardi moltissimo è sempre la polarizzazione delle cose perché è più semplice finché non ci diciamo che il male ci assomiglia almeno quanto ci assomiglia il bene e ci prendiamo questa fatica di dire che volta per volta il mare ci assomiglia non sempre non mai ma volta per volta può assomigliarci allora questa volta questa cosa qui è una è una questione civile politica e soprattutto culturale ed è il motivo per cui ho scritto un libro di vampiri oggi per raccontare che il male ci somiglia chiara è sempre veramente un piacere torno a trovarci presto io devo andare in pubblicità poi c'è mentale ciao ciao